Ancora nessuna data certa per la riapertura, almeno, della ferrovia dove i danni provocati dalla frana sembrano essere più contenuti. Tempi sicuramente lunghi per ripristinare la viabilità lungo la provinciale 72, incerti invece per la circolazione dei treni. A distanza di cinque giorni proseguono i sopralluoghi sul versante, sopra fiume latte, da cui venerdì si sono staccati quasi mille metri cubi di sassi e fango. Ieri i vigili del fuoco hanno li trasportato e calato tramite il verricello sulla frana, geologi e tecnici di RFI. Oggi nuove verifiche, ma una risposta non c'è. Sono in corso ulteriori valutazioni, spiega Mattia Micheli, vicepresidente della provincia con delega alla viabilità, per capire quali disgaggi saranno necessari per rimuovere il materiale instabile e permettere di eseguire in sicurezza lavori per riaprire le gallerie. Quella di fiume latte, con la volta ceduta sotto il peso dello smottamento, e quella della linea ferroviaria, i cui danni sono ancora ad accertare. Intanto in prefettura si è tenuta una riunione per predisporre un piano di intervento, nel caso dovesse verificarsi qualche problema lungo la statale 36, che al momento resta regolarmente percorribile.